Nel poker la fortuna ha un'importanza relativa, ciò significa che se analizziamo il singolo torneo o il breve periodo, che può essere un mese, due mesi di tornei e di partite, la fortuna ha un ruolo determinante, ha un ruolo preponderante, io direi che ha quasi il 70-80% di influenza sul nostro risultato. Se però analizziamo un medio-lungo periodo che può essere di 8-12 mesi o anche due anni di gioco, la fortuna tende assolutamente a sparire. La fortuna la possiamo un pochino intendere quasi un po' come un'illusione, un'illusione che soprattutto i principianti hanno. La fortuna a volte ci ha messo nella condizione di battere i più forti giocatori, di vincere tornei anche importanti, ci ha fatto credere di essere dei forti giocatori e quindi ci ha portato magari a cambiare il nostro stile di gioco, magari ci ha condizionato in una serie di scelte fondamentali nell'arco di un periodo di tempo medio-lungo, di nuovo può essere di 8-12-24 mesi. Il Texas Hold'em dunque, come ci ha giustamente illustrato e ricordato ancora una volta il nostro teacher, non è un gioco in cui la fortuna è decisiva, soprattutto prendendolo dal punto di vista del lungo periodo. È ovvio che nella singola mano, Stefano, ci sono le carte che possono decidere chiaramente l'esito. Nella singola mano e anche nel singolo torneo, volendo un pochettino ampliare il raggio temporale, ma senz'altro sul medio-lungo periodo il parametro fortuna non ha questa influenza totale, o comunque questa influenza che in molti possono attribuirli. Qui invece Eintracht vede Asso e Jack suited 2-7 contro... Vediamo, si sta, diciamo, apparecchiando la tavola per probabilmente una battaglia totale. Perutti va all-in con la coppia di 7, è molto corto, in questo caso ha bisogno della fortuna... E difende la coppia. Certo, ed è giusto andarsela anche a cercare. Il concetto è non basatevi sulla fortuna nel decidere le vostre giocate, ma ci sono dei momenti, soprattutto in un torneo al tavolo finale, in cui quando si ha una mano di questo genere bisogna andarsene a cercare la fortuna ed è giusto fare all-in nel vero senso della parola, perché tanto aspettare una mano migliore è molto complicato. In questo caso a Pieruti non va nemmeno malissimo perché trova l'asso figura dall'altra parte, quindi va a un coin flip, visto il suo stack, direi che tutto sommato è una fauna. Due overkarts, suited, che quindi danno anche buone chance a Enkrak, che però deve andare a pescare qualcosa di interessante sul borde. Altrimenti il punto chiuso lo ha Pieruti, che con i 2-7 guida nelle probabilità preflop, col 52 contro 48. Derby, eh? Derby svedese naturalmente, ti volevo ricordare ancora una volta che lo so che a te piace chiamarlo Piroti, ma è un Piruti perché in svedese hanno questa pronuncia particolare. Lo so, tu hai vissuto adesso in Svezia un anno e sei avvantaggiato. È chiaro. Colla ovviamente inevitabile, esce l'asso che dà il sorpasso, ci sta anche la rima, ad Eichardt che adesso al 90%, praticamente soltanto il 7, c'è un vago progetto di scala per Pieruti, è stato sfortunato in questo caso. Vediamo però il turn, arriva un 4, il progetto di scala non si concretizza e allora solo il 7, è stato sfortunato veramente. Zapparriver, il sogno in questo caso di Pieruti. Mezza Svezia che tifa per lui e arriva veramente, grande! Mamma mia, che colpo! E lo sa anche lui infatti, ride Eichardt perché tutto sommato era abbastanza dominante tuttora a livello di stack. Colpo sfortunato.